Ciao Luca, io sono il salutatore, ti volevo chiedere una grandissima sorpresa. A tutti i tuoi fan, un massimo decimo merito, me lo fai il comandante delle Legioni Feli. Ecco. Però ricordatevi, non è al mio via, al mio cenno, al mio tre, al mio segnale. Ciao. Scatidiamo i saluti. Aspetta, aspetta, do una sorpresa per te. Ecco qua, la manina del salutatore. Grande Luca Ward, salutiamo il grande Russell Crowe che ci sta ascoltando. Magari, dopo la malattia. Ciao. Ciao.